Un saluto a tutti da parte di Pierluigi Pardo e Luca Marcheggiari. Ciao Pierluigi, qui allo stadio oggi si respira una grande tensione. Sarà una partita molto combattuta. È buona, si gioca! Agaccia il passaggio. E a questo punto possiamo forse considerare chiusa la partita. Ora devono cambiare per forza qualcosa se vogliono provare a rimettare. C'è ancora una possibilità. Rocchi. Ecco il fischio, è finita. Una vittoria convincente, una prestazione fantastica da Marcheggiari, tutta la squadra, davvero tutto per il verso giusto posto oggi. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.